Primo appuntamento sabato sera sciacca con la rassegna letterando in feste off al complesso della badia grande a san michele è stato presentato il libro l'isola il tempo di claudia lanteri in una iniziativa organizzata in collaborazione con la libreria ubic di ornella gulino a conversare con l'autrice è stato il professor giovanni accardo sullo sfondo un giallo letterario fuori da ogni cannone con una triplice forza una struttura insolita un ritmo serrato ed una penna rara una scrittura letteraria quella di claudio lanteri molto potente maestosa e naturale insieme dove protagonista è un tempo mobile che si morde la coda in cui tutto continua ad accadere e chi racconta con l'illusione di approdare prima o poi ad un finale diverso rimane agganciato per sempre con il lettore all'enigma risolto il letterario in feste off ovvero una badia di libri continua già questa sera con un altro incontro letterario molto interessante alle 20 e 30 sempre nel cortile orchidea della multisala badia grande nel mondo fondato da sino caracappa si presenta come l'arancio amaro di milena palminteri pubblicato da bonpiani dialogherà con l'autrice alida alessi come l'arancio amaro con i suoi frutti asperrimi e l'arbusto più fecondo su cui innestare dolcissimi sanguinelli così questo libro mette in scena il dramma eterno del corpo femminile sottomesso usato colpevolizzato oppure portatore dell'immenso potere di sedurre e di generare di fronte a tutti i nostri canali e di fronte a tutti i nostri canali